Nel pomeriggio di martedì 3 settembre, intorno alle ore 16, Giovanni Chiari, pensionato di 74 anni, residente a Villa San Costanzo, ha perso la vita a causa del rovesciamento del trattore che stava guidando, subito dopo aver offerto pranzo ai suoi amici. L'incidente è avvenuto in Borgata Fonza di Villa San Costanzo, mentre l'uomo si stava dirigendo in un bosco di sua proprietà per tagliare della legna. In quel momento il trattore stava attraversando una strada particolarmente ripida e l'uomo ha perso il controllo del mezzo che si è rovesciato di un lato. Gli operatori del 118 sono immediatamente intervenuti sul posto, ma hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo, che è morto sul colpo. Ex operaio della Michelin di Cuneo, Giovanni Chiari, era molto conosciuto a Villa San Costanzo anche per la sua attività parrocchiale nella chiesa di San Pietro in Vincoli. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri di Dronero per i rilievi del caso. La sua salma è stata composta nella camera mortuaria del cimitero locale. Gli ispettori della Compagnia della Guardia di Finanza di Cuneo hanno concluso alcuni interventi nei confronti dei negozi comprooro attivi nel capoluogo ed anche in alcuni comuni limitrofi. Le attività più recenti hanno riguardato due operatori di Cuneo. I rilievi più significativi sono comunque stati mossi con riguardo al regime fiscale delle cessioni di oro usato. Il regime IVA, applicato dagli operatori economici ispezionati, infatti, è stato ritenuto non aderente alla normativa fiscale di settore, in quanto i monili, pur non essendolo affatto, venivano ceduti come rottami di metalli preziosi e pertanto in esenzione IVA, anziché come oro vecchio, dalla cui successiva cessione alle fonderie e origina invece un debito IVA. Gli ispettori della Compagnia della Guardia di Finanza, al termine delle verifiche fiscali in argomento, hanno accertato violazione ai fini IVA per circa 76.000 euro e a fini dell'IRPEF per quasi 89.000 euro. Nel corso delle ispezioni è emerso un ulteriore profilo di irregolarità, poiché la fusione dei preziosi per ricavarne lingotti è consentita soltanto ad operatori registrati presso la Banca d'Italia. I titolari di due esercizi commerciali, invece, provvedevano a fondere autonomamente i monili presso alcuni laboratori orafi del Piemonte, per poi rivenderli sotto forma di lingotti semilavorati di maggiore purezza alle fonderie autorizzate. Ne è scaturita una segnalazione alla locale Procura della Repubblica per violazione alla normativa di settore. Questi controlli si sommano ad analoghi interventi condotti precedentemente ed avviati aderendo alle direttive in partita a livello centrale nei confronti di altri operatori del settore attivi in Busca e Boves. Anche nel corso di tali attività sono stati mossi rilievi fiscali significativi con l'emersione in un caso di cospicuo eccessione di nero di preziosi. Nel complesso, gli interventi condotti della Compagnia di Cuneo nei confronti dei comproro del capoluogo dei comuni limitrofi hanno consentito di segnalare il recupero e la tassazione per circa 574.000 euro di imposte dirette e circa 278.000 euro di IVA dovuta. Da alcuni giorni, gli uomini del nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Savigliano stavano monitorando i movimenti di un operaio addetto alla manutenzione di caldaie di un'azienda saviglianese. L'uomo si sospettava abbinasse ai controlli di routine della caldaie un'attività di spaccio di droghe leggere. Ieri mattina, nel corso di un appostamento nei pressi dell'abitazione dell'uomo, che si trova a Barge, sono stati notati strani movimenti e per questo i militari hanno deciso di fare eruzione nell'immobile. Il 46enne, in un primo momento, ha ammesso di coltivare nel proprio giardino una pianta di marijuana. I militari hanno comunque proceduto alla perquisizione domiciliare. In effetti, nel giardino hanno rivenuto la pianta di cannabis indicata a altra oltre 3 metri. In un vasetto in cucina hanno rivenuto cartine da tabacco e un sacchetto che conteneva foglie di marijuana essiccate. In un congelatore, l'operaio costruiva topi impulcini morti che dava da mangiare ad un animale selvatico. Sotto le scatole, con gli animali morti, i militari hanno rivenuto 5 barattoli di vetro chiusi ermeticamente, che contenevano circa 210 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, pronta per essere venduta. L'uomo, per queste ragioni, è stato dichiarato in stato d'arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per produzione di sostanze stupefacenti, è condotto presso il carcere di Saluzzo in attesa della convalida dell'arresto. I sindaci di Langeroero, anche martedì 3 settembre, davanti al Tribunale di Alba in presidio. Dopo la nottata in tenda, la mattina di martedì si sono divisi, alcuni hanno presidiato un ingresso e raccolto firme in piazza Medford, mentre un altro gruppo è rimasto all'entrata del foro in piazza Sarti. Come comunicato il giorno prima dal prefetto al sindaco Maurizio Marello, il trasferimento di documenti e attrezzature del Tribunale, da Alba verso Asti, è sospeso fino a giovedì 5 settembre. Mercoledì 4 settembre, alle ore 6.30, sindaci, dipendenti del Tribunale e cittadini partiranno in pullman dal piazza Sarti, di fronte all'hotel di Castelli, per Roma, dove alle ore 17 una delegazione incontrerà il Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, guidata dal Presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota. Il presidio, davanti al foro albese, continuerà anche mercoledì con i rappresentanti dei sindaci che non andranno a Roma.